Per chi non mi conosce Giorgio Terziani, ho voluto fortemente organizzare questo congresso e questa conferenza che poi proseguirà con un corso di formazione, come sapete, per i nostri centri S-Drive domani e dopodomani, per divulgare quello che a mio avviso dovrebbe essere, visto i maestri che abbiamo come docenti, come professori, anche universitari, dovrebbe essere insegnate queste cose all'università, cosa che oggi manca. Manca perché, a mio avviso, manca il concetto di prevenzione pre-primaria, manca il concetto di vera prevenzione centrata sui bisogni specifici delle persone. Siete d'accordo, sì o no? E penso che quello che possiamo fare è unire le forze, come dice tutti gli uomini di buona volontà, unire le forze per cambiare un po' il paradigma, per creare consapevolezza, per creare cultura, per condividere quello che possono essere veramente le azioni da fare per miglioramento della qualità della vita delle persone. Sì, è vero che si sente dire prevenire è meglio che curare, però poi quando andiamo a vedere sui fatti cosa stiamo facendo per la prevenzione, soprattutto quando si ha chiaro dei danni dall'impatto ambientale che stiamo subendo, è chiaro, questo ormai è sugli occhi di tutti, la raccolta differenziata, quello che proprio ti dicono che devi fare, no? Le altre cose, ditemi, ognuno di noi, cos'è che sta facendo personalmente per non inquinare? Ci sono cose più grandi di noi, no? Bene, però dicono non è che possiamo aspettare il 2035, il 2050, quando ci sarà la trasformazione, adesso, forse, dicono, e in tutti questi 50 e 100 anni cosa abbiamo fatto? Abbiamo sprogrammato la vita di intere generazioni. Se parliamo di epigenetica, la programmazione epigenetica della vita, e poi lo sentiremo nelle varie relazioni, ce la stiamo perdendo. E c'è ben poco, veramente poco, che viene fatto per migliorare la qualità della vita delle future generazioni. Quindi abbiamo una grossa responsabilità. E questa è un'occasione di condivisione, e quindi ringrazio tutti i relatori e ringrazio tutti voi di essere qui presenti, perché penso che, insomma, vedo che molta gente è interessata a questi argomenti, no? Metabolomica, epigenetica, nutriaceutica, nutrizione, ma soprattutto medicina quantistica, biofisica. Finalmente incominciamo a vedere anche il rovescio della medaglia della medicina, perché la biochimica è anche biofisica. Quindi incominciamo a condividere queste preziosi informazioni. Ringrazio gli ospiti internazionali che abbiamo. Esteban Peiromozzo dalla Spagna, grazie di essere qua. Marco Stanton, Germania. E poi dei carissimi amici, Michele Tribuzio, Dio Mike, il professor Carlo Ventura, Dino Pischi, Simona Nava, Bartolomeo Allegrini, Emanuele Nobile, Monica Greco. Insomma, ci divertiremo. Non vedo l'ora di ascoltare questi meravigliosi relatori, non prima di ringraziare la professoressa e grazie a Feno Pintori per essere qui con noi, Università di Sassari, che modererà questo evento. Grazie, benvenuti e buon lavoro. Grazie Giorgio, buonasera a tutti. Per me è un onore essere qua oggi. Tra l'altro Giorgio mi ha dato un incarico particolare che svolgo volentieri e spero di poterlo svolgere al meglio. Sono davvero onorata perché comunque si tratta di una scienza, una scienza nuova. Vedo naturalmente che ci sono tante persone interessate e avremo sicuramente l'opportunità intanto di un confronto in questi giorni per quelli che parteciperanno anche nei giorni successivi. Io credo che ci si stia avviando verso una nuova visione. Io sono un medico, sono un anatomopatologo. E come dire, molti rimangono sorpresi perché dicono ma è come che si interessa a cose che in realtà alcuni vedono come delle cose ancora molto lontane dall'essere vicino al paziente. Purtroppo questa è una triste realtà, è una brutta constatazione e invece noi siamo in grado di dare, di studiare il paziente attraverso naturalmente una visione ulistica e questo partendo da che cosa? Da quello da cui siamo formati, cioè dalle cellule. Io sono un'appassionata di cellule, ho sempre studiato cellule, guardo cellule durante il mio lavoro, le preferisco ai tessuti, qualche volta mi sembra che mi parlino e in realtà io credo che questo sia il punto di partenza fondamentale. Cioè noi dobbiamo pensare di essere fatti di cellule e poi diventiamo quello che siamo. Però nell'ambito dei nostri studi io credo che sia fondamentale. Giorgio ha avuto una bella intuizione a fare questa riunione. Io spero che sia la prima di tante altre che ci permetta di crescere insieme e quindi di poter coltivare una passione che è quella di cercare di prevenire, ma veramente di prevenire la malattia, ma soprattutto in pratica di vivere in uno stato di salute. Per il tempo che sarà, però nel frattempo ne dobbiamo cogliere il punto fondamentale che è quello di cercare di vivere in benessere e questo si può fare. Si può fare pensando ancora prima di essere malati. E questo adesso lo possiamo fare. E io credo che questo percorso comune possa permetterci di intanto diffondere naturalmente questo sistema di studio, questo metodo, e ci consenta anche di approfondire e di divulgare. Sono qua in veste accademica, così come il professor Ventura. In realtà l'università, devo essere sincera, ne parlavo poc'anzi prima di iniziare, è ancora lontana. Io, vedete, ho una diapositiva senza titolo. In genere uno mette una diapositiva e mette il titolo. Io titolo per questa presentazione, che in realtà non è una presentazione, non l'ho trovato, non ce l'ho perché vi racconterò una storia che è la storia di come io oggi mi trovo qua e di come abbia approcciato l'idea di conoscere l'epigenetica per un percorso che all'università ancora viene visto. Io, tenete conto, sono considerata una mezza strega. Sono l'anatomo patologo che fa referti, poi al momento opportuno naturalmente sono una strega perché viaggio anche su altre dimensioni, il che naturalmente mi fa solo piacere. e poi gli altri dicano quel che vogliono. Però ecco, non ho il titolo perché in realtà è una storia, quella che vi voglio raccontare, ed è la mia, di come sono arrivata a naturalmente fare, ad essere qua oggi. Quindi qui vedete, c'è una iniziata tre, quattro anni fa, quando in realtà, anzi nel 2021, quindi ormai quasi quattro anni, perché eravamo all'inizio del 2021, io ho conosciuto un pazzo che ha deciso di lavorare in Oliastra, in particolare nella Sardegna, cioè le famose Blue Zone, terra di longevi, e di sistemare tutta una situazione che era legata, non so se quanti di voi lo sappiano, comunque quando il DNA di queste popolazioni dell'Oliastra, delle Blue Zone è stato, diciamo così, prelevato, per poter essere analizzato, poi una vicenda estremamente dolorosa ha fatto sì che questo DNA venisse in realtà venduto all'asta, ad un'agenzia londinese, e dunque noi non, questo ha creato intanto delle conseguenze penali, ma più che altro questo DNA è stato disperso, è poi ritornato, perché comunque la legge ha fatto il suo corso, e il problema era, per l'Oliastra in particolare, per Perdas de Fogu, epicentro di questa collettività di centenari, era quello di sistemarla da qualche parte, dove naturalmente ci fosse un custode che si presume abbia almeno un'onestà intellettuale, di non metterli di nuovo all'asta, o comunque di venderli. Io vengo identificata nell'ambito della mia università come, leggete, come il custode è il responsabile scientifico di ben 13.000 campioni di DNA custoditi all'interno di Freezer, i quali reccano tuttavia un sigillo che ci dice che noi ancora non possiamo utilizzarli per gli studi. Non so quanto la giustizia impiegherà per dirci potete togliere i sigilli, nel frattempo io li custodisco nel mio istituto, controllo che tutto vada bene, controllo che non scattino allarmi, ce li ho in custodia, ma niente posso fare. Quando in pratica il presidente dell'Associazione per la tutela di DNA venne in università e il rettore identificò la mia persona e gli dissi va bene, però possiamo pensare che prima o poi dovremmo dedicarci allo studio di questo materiale. E allora chiesi in cambio di questa mia guardiania due borse di dottorato. borse di dottorato che ottenni e quindi il percorso poteva andare avanti, ma io mi trovavo in una condizione estremamente particolare. Non potevo usare il DNA dei centenari, però potevo guardare il mondo dei centenari e capire come questi centenari fossero arrivati ad essere centenari e ultracentenari e comunque longevi. Quindi scattò la molla, genetica no, epigenetica sì. Ma come la guardo questa epigenetica? Perché un accademico deve alla fine fornire un dato scientifico. Dovremo pur produrre qualcosa. I dottorati, la dottoressa Pischi è qua presente, devono andare avanti, soprattutto lei, molto interessata, che diciamo ha appoggiato moltissimo il mio studio e anche le mie follie, e in realtà c'era un grosso problema. Dal punto di vista scientifico cosa facciamo? Parliamo di ambiente? Parliamo di longevi messi in una zona della Sardegna, tra mare, montagna? E bisognava sfattare poi il fatto che questi poveri longevi, poveri neanche tanto, visto che sono anche in buona salute, questi longevi in realtà mangiassero o minestrone o bevessero un vino o un cannonau ogni giorno. Ma come possiamo scrivere un lavoro scientifico intervistandoli cosa mangiali? Poi in realtà si è anche scoperto che questo minestrone poi ne lo mangiano neanche tanto. E dunque il problema era, approcciamo dal punto di vista scientifico il concetto di epigenetica. Dove andiamo a finire? L'incontro fortuito, furia di pensare alla fine, le passioni alla fine trovano una soluzione, bisogna solo coltivarle. Trovo naturalmente il Antonio Coviello, collaboratore di Giorgio, e alla fine iniziamo un percorso. Conosco Giorgio e Giorgio viene naturalmente a trovarci, ci conosciamo e mi offre una soluzione che è quello di dare un risvolto scientifico al concetto di epigenetica. Come lo potevo fare? È inutile che vi parli ovviamente di un macchinario, io ho messo nella diapositiva, però ci tengo a precisare che è nato in pratica un rapporto di collaborazione, cioè all'Associazione per la tutela del DNA oliastrino, all'università che aveva naturalmente iniziato un programma di studio, trasformato da me in studio genetico, in studio epigenetico, si è unita naturalmente cell webbing, le nutracelle, perché? Perché questo ci ha potuto aiutare a indagare e quindi ritornare in oliastra con una metodica, con un metodo che ci ha permesso di vedere che cosa questi longevi avessero nelle loro cellule. Abbiamo così iniziato un percorso, che è un percorso semplice, rapido, non è inutile che io ve lo dica, che però ci ha portato ad ottenere immediatamente dei risultati. Intanto abbiamo iniziato una catalogazione della popolazione, tenete conto che lì sono dei centri molto piccoli, sono dei paesi nei quali si fa molta vita familiare, e comunque tuttavia ci sono anche delle case di riposo per i longevi che non hanno più familiari. Quindi abbiamo iniziato a raccogliere dati tra quelli che vivono nelle residenze assistenziali e quelli invece tenuti in famiglia. Non vi sto naturalmente a portare risultati scientifici, penso che ci sono tanti relatori e credo che ci sarà tempo poi per parlare veramente dei risultati ottenuti, però questo ci ha permesso intanto di apportare il metodo, di fare in modo una mappatura iniziale che sta ancora andando avanti per quanto riguarda l'epigenetica dei longevi e vi posso assicurare, questo è un dato che non ci ha sorpreso, però ha trovato una constatazione vera e reale nell'utilizzo dell'S-Drive, sono tutti sani, non hanno un filo di infiammazione, al massimo mancano di qualche oligolemento o di qualche amminoacido, per il resto credetemi non hanno una malattia né un cenno di infiammazione, sono longevi dai 95 anni in su, differenza forse che riguarda proprio qualche carenza di elementi, di oligoelementi o di amminoacidi nei pazienti che stanno nelle residenze, probabilmente l'alimentazione è molto più statica, e quindi in pratica non hanno una varietà di cibo legata al vivere in famiglia e naturalmente non hanno anche l'apporto familiare, l'ambiente familiare e nonostante insomma li avessimo trovati tutti sereni è chiaro che quelli che sono venuti accompagnati dai loro figli avevano sicuramente una marcia in più, ma anche dal punto della socialità e anche della prontezza di riflessi. Non c'è nessuno affetto ad Alzheimer, ricordano tutti benissimo quello che fanno e qualcuno lo fa ancora. Abbiamo conosciuto anche qualche fuggitiva, devo dire donne più eroiche, dalla casa di riposo ritorno alla loro casa, abbiamo quindi diversi tentativi di fuga per dietro, sono simpaticissimi perché comunque raccontano di una vita molto diciamo così, che forse qualcuno può anche giudicare noiosa o comunque, ma molto vicina per esempio, calata completamente nell'ambiente e dunque nella famiglia, per cui hanno veramente un approccio di vita in una realtà dove io mi calo anche spesso, molto volentieri, perché comunque è come vivere senza tempo per un certo periodo di tempo, per quanto hanno proprio un ambiente che è diverso da quello nel quale noi in genere lavoriamo, pur facendo una vita il più sana possibile. Io non mi sono accontentata di avere dati epigenetici e ho pensato anche una cosa, anche tra l'altro parlando con Giorgio, che cosa succede se noi abbiamo dati epigenetici che riguardano i longevi di Sardegna? che cosa succede se in pratica nel mondo abbiamo professionisti di tutte le categorie che raccolgono i dati con l'S-Drive, abbiamo tanti fattori epigenetici che però in pratica risultano isolati, che però risultano isolati e allora tutti questi dati che noi abbiamo a che cosa ci servono se anche scrivendo dei lavori scientifici alla fine non riusciamo a interfacciarci tutti insieme e da allora abbiamo aspetta che ormai in pratica ho finito e da allora abbiamo pensato di sistemare, qui vedete la dottoressa Pischi che riconoscete anche qui presente, qui siamo nella biblioteca di Perdas de Fogo in Oliastra, dietro ci sono le fotografie dei longevi, questi sono tutti viventi e poi qua invece abbiamo a seguito di questa riflessione su come poter trovarci tra di noi e quindi cercare di trovare, di dare valenza a questa scienza, quindi farla chiamare scienza con la S maiuscola, alla fine cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo su una Star Cup che è stata premiata e questa Star Cup in realtà che cosa prevede? Prevede la creazione di una biobanca, cioè in pratica una biobanca di fattori epigenetici, la dottoressa Pischi che poi magari contatterà qualcuno di voi o naturalmente io tramite Giorgio e durante i nostri incontri vi chiederemo di entrare in qualche modo, adesso stiamo sistemando l'idea di un software nella quale tutti voi che lavorate con l'S Drive e che quindi raccogliete il report possiate convogliarli tutti all'interno di una biobanca epigenetica che sia però fruibile da tutti e quindi l'esempio più eclatante è io ho un paziente di 53 anni che manca di alanina. Voglio capire quanto nei pazienti di 53 anni può succedere l'evento genere maschile accedete alla biobanca con un sistema di card e comunque insomma di abbonamento che vedremo poi di realizzare in maniera più precisa e quindi di essere sempre più naturalmente dettagliati cliccare quindi genere maschile 53 anni, carenza di alanina e vedere beh caspita mettiamo ce ne sono 100 in tutta Italia in particolare sono radunati in Piemonte c'è qualcosa allora il fattore epigenetico lì che incita lo studio e che naturalmente ci dice beh vediamo che cosa succede altrimenti perlomeno nel nostro pensiero per come l'abbiamo pensato all'università avere tanti dati e parlare di epigenetica alla fine ormai ci sono biobanche di tutti i generi facciamo anche una biobanca dell'epigenetica questa è la mia richiesta precisa in maniera tale che tutti noi possiamo avere dei dati dai quali attingere e anche ai quali contribuire con i nostri dati per cui il report che noi ricaviamo in maniera naturalmente assolutamente blindata come voi sapete ormai c'è la privacy che sovrasta ogni azione ma è giusto anche che sia così possono essere riportati all'interno di questa di biobanca con dei codici di accesso e con altri tanti codici di accesso possono essere prelevati questo naturalmente ci permette uno di creare una rete di rimanere in contatto e allo stesso tempo avere sempre più dati a disposizione e chi fosse interessato chiaramente può fare review o lavori scientifici basandosi non magari sui pochi casi che singolarmente raccoglie ma su quelli che ha a disposizione prelevandoli dalla rete e dunque questo è la nostra naturalmente una proposta attraverso la quale diciamo abbiamo trovato anche dei consensi al di fuori diciamo così del nostro comparto accademico tanto in pratica che la proposta di questa biobanca di questa l'UR dove l'acronimo sta per longevity wellness epigenetica e research è stato anche oggetto di attenzione da parte di alcuni finanziatori per cui ecco potremo sicuramente almeno avere una parte di finanziamento per quanto riguarda la creazione del cervello centrale che naturalmente sarà ovviamente una spesa una spesa cospicua ma che sicuramente ci permetterà di rimanere tutti uniti io volevo soltanto dire due parole sono troppo chiaccherona vorrei soltanto ricordare una cosa ma so che i relatori di oggi e dei prossimi giorni riprenderanno sicuramente meglio di me l'argomento io nasco sono anatomopatologo nasco come embriologa il mio maestro era un appassionato di placenta di embriologia di biologia di riproduzione vi ricordo che tutti quanti veniamo fuori dall'incontro di due cellule se noi abbiamo due cellule sane avremo un essere sano se invece tutto nasce lì cioè in pratica l'unione di cellule sane fa naturalmente un individuo sano che per quanto possa essere vessato da fattori ambientali che ruotano intorno a lui è comunque una base solida si sgretolerà molto meno facilmente di altri naturalmente invece incontri tra cellule nelle quali già abbiamo naturalmente qualcosa che non va noi abbiamo la possibilità di precedere questo evento e quindi di studiare quelli che sono le condizioni pre naturalmente pre procreazione e quindi dobbiamo entrare per capire e per naturalmente sensibilizzare le persone a naturalmente fare i test non quando sono malatti è chiaro tutti vanno al medico quando sono malatti ma il nostro lavoro secondo me è quello di sensibilizzare ancora prima perché una volta che queste due cellule si incontrano iniziamo un percorso che è quello naturalmente di tre foglietti che recano ognuno di loro una storia molti di voi ho visto anche le vostre curricula sono appassionati di omeopatia costituzionale è vero che di questi foglietti noi abbiamo naturalmente un'impronta che è data dall'incontro di quelle due cellule e ognuno naturalmente di questi foglietti ha una vita che può naturalmente poi ovviamente scambiare con gli altri foglietti ma che ci dice che il tipo costituzionale ha naturalmente una nota che cala o su quel di patologia o di salute che poi alla fine butta su quel foglietto o addirittura su tutti e tre i foglietti io per naturalmente arrivare sani e avere ovviamente una longevità come questa signora che è diventata naturalmente ormai un'icona di tutti i longevi quando si vuole rappresentare longevo c'è questa donna che è seduta sulla soglia di casa assolutamente serena avanti negli anni per arrivare però a questo dobbiamo ricordarci che dobbiamo sempre partire in prevenzione e adesso ne abbiamo una possibilità possiamo con l'epigenetica capire che cosa ci può tenere in salute e che cosa possiamo farlo per mantenerla e quindi naturalmente per mantenerci sani io con questo vi ringrazio non parlo oltre perché sono chiaccherona grazie a tutti grazie a tutti